Ben ritrovato da Marcello sul mio canale, oggi parliamo di un nuovo argomento FDE, acronimo di FOTTA DI ENTRARE. Tutti quanti là fuori parlano di FOMO, mica FOMO, psicologia, eccetera, eccetera. Io parlo della FOTTA DI ENTRARE perché tengo i piedi per terra e terra a terra. Ti dico che uno di quegli argomenti importantissimi nella parte di psicologia operativa e di gestione delle emozioni e sfortunatamente riguarda tutti i trader e tutte le persone che stanno sui mercati a cercare di fare e di produrre risultato. Ebbene sì, riguarda tutti, nessuno è immune, sono quelle sensazioni, quelle situazioni che toccano ognuno di noi. Una volta, quando si era probabilmente un po' più genuini, qualche decina di anni fa si parlava di prurito sul dito nel mouse, quando si aveva la necessità di cliccare, di esserci. Ecco, questo succede a tutti, adesso torniamo seri in questo contesto, succede a tutti e è una di quelle cose effettivamente molto pericolose, perché porta le persone, porta ognuno di noi a commettere delle imprecisioni, a non ragionare in maniera ferma su determinate situazioni. Attenzione, la FOTTA DI ENTRARE riguarda sia gli ingressi, ma riguarda anche le uscite, no? Uno dice, ah bene, sto guadagnando qualcosina e esco. Poi magari, nel momento in cui esci, 30 secondi dopo il mercato parte, va nella tua direzione. Quante volte ti è successo? Dai, parliamoci chiaro. Purtroppo è così, sono giochi della mente, ci sono dei sistemi per controllarli, probabilmente sì, l'unica cosa è lavorare tanto, tanto, tanto sulla propria persona, imparare a conoscersi e il segreto, in ultimis, del buon padre di famiglia, come mi suol dire, è quello di fumare il cane. Quando si ha la sensazione, la percezione di voler entrare a tutti i costi, di voler fare l'operazione, di voler uscire dal trade prima perché si sta muovendo, eccetera, eccetera, beh, un consiglio che ti posso dare è quello di spegnere il computer, andare a fare una passeggiata e risettare tutto il campo emotivo della nostra testa. So che è difficile, non è facile perché poi quando uno è fuori dice guardi con il telefono le quotazioni, guardi di qua, muovi di là, ti arriva la telefonata o il messaggino o il gruppo che ti dice e guarda il CRUD sta facendo, l'SMP sta facendo, siamo bombardati. Il ragionamento è quello di staccare momentaneamente, per la giornata dipende quanto uno poi riesce ad autocontrollarsi, staccare completamente dal mercato e fermarsi a riflettere in maniera assolutamente neutra. La fotta di entrare il FOMO in maniera più tecnica, come dicono gli inglesi e gli americani, è veramente pericoloso, è pericolosissimo perché ci espone a delle situazioni incontrollate. Prova a pensare, non ti è mai successo di entrare sul mercato e qualche istante dopo guardare il grafico e chiederti, ma perché sono entrato lì? Perché sono entrato in quel momento a quel livello di prezzo, in quella direzione? E attenzione, questo non c'entra, ma sono all'inizio, sto imperando. Questo qui purtroppo colpisce tutti, sono situazioni a cui tutti dobbiamo prestare particolare attenzione, perché sennò rischiamo veramente di farci travolgere dalle emozioni. In questi giorni il mercato sta facendo veramente pietà, siamo entrati nella terza settimana, in buona sostanza, di gennaio 2024, mentre scrivo, e siamo in una situazione in cui i mercati stanno continuando a fare degli strappi giornalieri importanti per poi ritracciare, per poi andare a toccare nuovi massimi. Insomma, una situazione abbastanza pesante di quelle che, ahimè, sfortunatamente non aiuta l'operatività di nessuno, perché vedi questi grandi movimenti sul grafico giornaliero, poi vai a vedere nell'intraday, insomma, le opportunità sono veramente poche. Ed è proprio lì che la fotta di entrare gioca un ruolo particolare, nel senso che uno dice, va bene, ma ieri mi sono perso l'operazione, caspita, fa due, tre movimenti fatti bene al giorno, se me la perdo anche oggi sono fuori dal mercato. Ed è proprio lì che la testa gioca un ruolo incredibile. Perché se non si è completamente freddi e neutri nel gestire quel tipo di emozione, quel tipo di diavoletto che ci sta sulla spalla, beh ragazzi, diventa un problema. In questo video non ci sono grafici, non c'è piattaforma, non ci sono volumi, non c'è order flow, anche se, come vedi, la mia parte, la mia componente operativa è sempre quella e non cambia. Non è una cosa facile, richiede tanto allenamento. Mi raccomando, non ti far cogliere in preparato sulla capacità emotiva nel controllare le tue emozioni. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo contenuto. A presto, a Marcello.